Ciao e benvenuti su LifeTaste TV per una nuova puntata di 180 secondi di video. Quello che andremo a degustare oggi è un canono di Sardegna, riserva del 2008, il nuovo commerciale è la marina, della cantina viticoltori della Romangia. I terreni, che si trovano nella parte nord-occidentale dell'isola, sono caratterizzati dall'influenza del mare e dalla sabbia e dai calcari presenti. Andiamo a stappare la bottiglia. Il colore di questo vino è un grosso rubino, che mostra già dei riflessi granato dovuti a retaggio. La consistenza è buona, vediamo come si muove nel carice e come forma delle ampie lunette. Al naso è un vino sicuramente fine, che di primo impatto mostra tutti i suoi profumi di frutti rossi, prugne, marmellate, però poi evolvono anche in profumi terziari, che vanno dal cuoio al tabacco. Comunque si vede l'influenza del legno, delle bocce di rovere. Al gusto. Vediamo come i tannini siano estremamente rotondi. È un vino morbido, che lascia un'estrema pulizia in bocca, e che anche al gusto fa rivedere tutto ciò che abbiamo sentito all'olfatto. Questo vino è servito a 18 gradi, 18-20 gradi sicuramente va aperto un po' prima, perché si esprima in tutta la sua grandezza. Con cosa lo abbiniamo? Gli abbinamenti tradizionali, quindi con salumi e formaggi stagionati, tipici della regione Sardegna. Il mio abbinamento personale? Utilizzando lo stesso vino la marina, un brasato di cinghiale condito con finocchietto e olive. Vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Live Taste TV. Cin! Be 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.